Dopo aver conosciuto per sommi capi quella che sarà la composizione del Girone C, le società puntano a scegliere gli allenatori in vista della prossima stagione. Per il momento soltanto nove squadre hanno già ufficializzato l'allenatore. Tre volti nuovi, Braia all'Avellino, Modica alla Cavese e Guidi alla Casertana e ben sei riconferme, Scienza al Monopoli, Trocini alla Virtus Francavilla, Erra alla Paganese, Giacomaro al Picerno, Fabiano alla Turris e Taurino al Bitonto. Per quanto riguarda le altre società invece, fra trattative e sondaggi, il quadro tecnico non è stato ancora definito ufficialmente. Destino legato ad esempio è quello di Viterbese e Catanzaro. L'allenatore del club della Tuscia, Antonio Calabro, ha di fatto comunicato ai dirigenti la volontà di voler sposare un nuovo progetto. Sono volati stracci in casa giallo-verde con il presidente che ha ufficialmente chiesto al suo allenatore le dimissioni. Queste ultime non sono arrivate a causa di una buon'uscita che l'ex tecnico del Carpi vorrebbe. Una volta chiusa la questione con la Viterbese, Calabro andrà al Catanzaro. Accordo già raggiunto, ma che potrebbe incrinarsi con il protrarsi del tempo. Ecco dunque che nelle prossime ore è prevista un'accelerata. A sua volta la Viterbese, per sostituirlo, sfoglia la Margherita tra l'ex Giovanni Lopez e l'allenatore della Beretti, Boccolini. Il Catania è vicinissimo all'ingaggio di Giuseppe Raffaele. Per l'ex Potenza è pronto un contratto biennale. Al suo posto il club Lucano ha pensato a Mario Somma. Da Catania è andato via Cristiano Lucarelli, sempre più vicino a legarsi alla Ternana, per la quale Panchina avrebbe battuto la concorrenza di Cristian Bucchi. Infine, la neopromossa Palermo è fortemente interessata a Roberto Boscaia, reduce da una buona stagione in B con la Virtus Entella. Nelle ultime ore però il club rosa-nero ha chiesto informazioni anche sull'ex terzino Aimo Diana, reduce da un'eccellente esperienza alla guida del Renate. Da definire infine le situazioni delle retrocesse Juve Stabia e Trapani e di Vibonese e Sicula Leonzio, in attesa anche degli sviluppi societari di alcuni club.